La Corte di Cassazione ha posto la parola fine in merito all'omicidio del favarese Calogero Palumbo Piccionello con la condanna a 30 anni di reclusione per Antonino Baio. Il 75enne ieri, davanti ai giudici Armellini, si era giocato il tutto per tutto con i suoi tre legali difensori Antonino Mormino, Giovanni Castronovo e Franco Coppi, ma la Suprema Corte ha riconfermato la condanna stabilita nel primo e secondo grado di giudizio. Si conclude così una vicenda giudiziaria risalente allo scorso 28 novembre 2012, quando in Via Napoli a Favara si consumò l'omicidio ai danni del 67enne Palumbo Piccionello, re delle sale gioco, compiuto dal concittadino Baio. L'assassino aveva pochi minuti dopo confessato il crimine, presentandosi spontaneamente presso la locale caserma dei Carabinieri, sita allora in Via De Mille, a pochi passi da Via Napoli. La difesa si è sempre battuta per l'assoluzione di Baio, in quanto, secondo loro, al momento del fatto, si sarebbe trovato in uno stato di infermità mentale, senza la capacità di intendere e di volere. Per il procuratore della Cassazione, invece, la condanna andava confermata, in quanto era chiara la colpevolezza dell'imputato. La condanna adesso è definitiva e Baio, tornato libero durante il processo di primo grado nell'aprile del 2014, per decorrenza dei termini, dovrà adesso scontare la penna residua in carcere.